La Fondazione Biellezza ha avuto il piacere di mostrare agli occhi di Biella un luogo già conosciuto a molti. Il Tracciolino, una lunga balconata che vede la sua partenza a Trivero per poi procedere fino ad Andrate. Come si è già ribadito, un posto noto che però ci viene mostrato in maniera diversa, proiettato nel futuro, come potrebbe essere e cosa potrebbe valere questa balconata per il territorio biellese. Il Tracciolino, inteso come punto di partenza da cui poter far crescere il nostro territorio, spiega il presidente della Fondazione Biellezza, Paolo Zegna. Abbiamo lavorato affinché la negatività nei confronti del nostro territorio, poco conosciuto, si trasformasse in un valore. In un'Italia sempre più inglobata dal turismo, sta cominciando a nascere un nuovo concetto di quest'ultimo, un turismo lento, autentico, sostenibile, rivolto alla scoperta di posti nuovi. In seguito alla visione dell'aumento del passaggio di turisti nel nostro territorio, è cresciuta la convinzione che sia necessario puntare un po' più in alto affinché tutto il territorio diventi più ospitale ed accogliente. Un collegamento tra i territori cercando di mettere insieme tutti i pezzi che compongono il Piemonte. Un sogno, quello di dare una nuova vita al Tracciolino. Una traccia, un percorso reso visibile internazionalmente come un marchio ben conosciuto e caratterizzato. Tramite diversi punti di partenza è un sistema infrastrutturale con percorsi accessibili a piedi, bicicletta e auto, offrendo diversi servizi ed attività che punteggerebbero tutto il percorso. Insomma, un punto di lancio per far conoscere il nostro territorio e le nostre tradizioni e far crescere un turismo di nicchia.